Parigi fa caldo allora fa caldo non abbiamo per il momento installato il condizionatore e guardate qui sali non puoi andare perchè e vai male allora no babbo no devi andare babbo fa caldo fa caldo vuoi mordere pure il colto no babbo questo non ti tocca no non potete entrare bene così possiamo rimanere con la particina aperta e questi tre cagnoni eh 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 uè non saltare devi andare no babbo andate prego perchè sentire troppo bollente no io sto testando eh per vedere se allora praticamente ho dovuto mettere due e sonì riesce ad entrare anche in uno spazio del genere questo cane è una zoccola non è un cane e quindi e quindi se metto solo questo passa senza problemi poi ho dovuto mettere un altro e passa senza problemi ho messo il cartone riesce a levare il cartone davanti al cartone che cosa ho messo? i scatoli di resina epidossica epossilica che servono per fare gli acquari così non rompono i coglioni come devo fare con te? non puoi dormire con noi fa caldo babbo fa troppo caldo fa troppo caldo non puoi dormire non puoi dormire dopo vengo vengo io vengo a trovare non puoi dormire non puoi dormire non puoi dormire dove sta quella stronza? no babbo tu no non mi dovinate mi ha operato buono come devo fare con te lui? allora lui si è imparato ad aprire le porte allora praticamente si è imparato che qua deve premere e quindi aprire la porta quindi lui siccome è abbastanza alto fa il salto ed apre la porta è una cosa che non vi potete proprio immaginare talmente che intelligente e sono sicuro che ora arriverà al punto di capire che questo lo deve spingere verso questo lato qua e qui già sai ahahahahah io non ce la fa io lo sto testando per vedere che fa no ma lui ci riesce ragazzi io sto testando ma lui ci riesce sono sicuro ahahahahah sicuro al 100% tra i 10 minuti ci riesce entrati perché troppo non ti riesce ahahahahah ahahahahah io non ti s'ho fatto più no babbo tu mangi cartone ahahahahah ahahahahah ci riesce ci riesce ci riesce me l'ho detto che ci riesce voilà 10 minuti ci riesce no babbo però mangiare cartone no fa male a babbo guardate questo secondo me apre perché ha visto io come giuro no a babbo ti fa male così io sto vicino perché voglio vedere che si fa male voglio vedere fino a che punto arriva qua e' la ecco qua guardate guardate come entra oh 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 questo non mi piace sto fatto no non ti muoio babbo non ti muoio esci esci con la testa no 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 atthò 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 aspettate ragazzi con due mani non posso guardate com'entra questo, ha rotto tutto no aspetta battolo guarda è stata pure la resina che pesantissima quella resina è stata pure la resina in terra che pesante quelli sono 20 kg di resina 20 kg un cagnolino che è una zoccola incredibile a lei tu ma tutto quanto vuole riconoscere non fa caldo fa caldo come è venuta a dormire con noi la propria cagola non è in mattina pure a te andandoci a te la saprò tu ciao a giù alla prossima fa caldo fa caldo fa caldo